Ad un anno esatto dal sequestro cominciano le prime, parziali, opere di messa in sicurezza dell'impianto Le Rose Ripotterera, il punto zero dell'inchiesta Cheu che ha smascherato il sistema illecito di smaltimento dei rifiuti di Concia. Gli amministratori giudiziali del Tribunale che hanno in carico l'impianto effettuano i primi sopralluoghi accompagnati dai carabinieri che hanno rotto i sigilli a valle dell'indagine che ha collegato Affari, Politica e Ndrangheta. Questa è un'importantissima vittoria per le misure di prevenzione patrimoniali in un momento storico in cui questo sistema viene molto spesso criticato e ne viene addirittura messa in discussione la credibilità. Nel momento però non si poteva lasciare questi rifiuti alle condizioni, alle piogge, agli agenti atmosferici perché ovviamente comportano un dilavamento e quindi una pericolosità per la salute dei cittadini e per l'ambiente entro il mese prossimo inizieremo anche i lavori sull'impianto di Bucine. Mentre si attendono gli eventuali rinvii a giudizio per gli indagati, tra i quali i nomi eccellenti della sindaca Giulia De Ida, l'ex consigliere provinciale Andrea Pieroni e l'ex capo di gabinetto della regione Ledo Gori, l'urgenza sono le bonifiche dei siti interessati. Ecco e qui siamo esattamente sopra le montagne di Terre Cheu, dentro l'impianto, le rose tonnellate di materiale inquinante che le piogge rischiano di far contaminare tutta l'area circostante. Avremmo voluto una bonifica definitiva ma le risorse della società non sono sufficienti e abbiamo chiesto alla regione di avere le altre risorse anche in virtù delle escursioni e delle polizze che la società quando non era sequestrata aveva dovuto stipulare per riuscire a chiudere, a mettere in sicurezza almeno questi due siti. Non ci bastano le risorse e quindi abbiamo bisogno di un intervento della regione e spero che arrivi nei prossimi giorni perché altrimenti non riusciremo a completare l'opera che dopo un anno a fatica siamo riusciti almeno a identificare. Sicurezza significa coprire ed evitare che ci siano degli ulteriori danni, che dunque ci sia una percolazione che possa arrivare fino alla falda per farlo evidentemente dobbiamo coprire tutto il sito.